Allacce abusive di energia, operazione interforza, ripristino della legalità. Dalla mattinata odierna la Polizia di Stato insieme ad altre forze dell'ordine, oltre ai tecnici dell'azienda della rete elettrica, sta svolgendo un'altra operazione finalizzata alla verifica degli allacci abusivi alla rete di distribuzione elettrica e al relativo ripristino della legalità in zone sensibili di Siracusa. Le operazioni svolte sotto la direzione dei funzionari della Polizia di Stato sono state pianificate in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il servizio che si sta svolgendo con il contributo degli aziende del reparto mobile e del reparto prevenzione crimine di Catania prevede efficaci misure di vigilanza, ordine e sicurezza allo scopo di prevenire ogni illegalità e di garantire il regolare svolgimento delle operazioni finalizzate al controllo dei contrattori in questione. Odierna operazione che si innesta nella più articolata azione dei ripristino della legalità e di contrasto alla criminalità diffusa che ha visto nelle scorse settimane la questura Redusea insieme ai carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale impegnata sul fronte della repressione e della prevenzione dei reati e finalizzata a combattere ogni forma di illegalità aumentando la percezione di sicurezza nei cittadini e affermando con forza la presenza dello Stato. Grazie a tutti.